Monti è uno che è assolutamente efficace, è una persona stimabile, per l'amore di Dio. Ma fino a due mesi fa lui la crisi era nella Bocconi, erano gli economisti, dice anche la crisi era alle spalle. E allora di che cosa parliamo? Di togliere un po' di giunte nelle province, le province vanno abolite. Ma mentre lui dice che vuole abolire la giunte di qualche provincia, la provincia di Roma sta comprando la sua sede, un grattacielo da 250 milioni di euro. Di che cosa parliamo?